Di aprire la pagina d'attualità, volevo ricordare che a venerdì prossimo, 17 febbraio, su Rai 3 andrà in onda in prima serata, alle 21.25, il film documentario Buon Compleanno Massimo per la regia di Marco Spagnoli che racconta la vita, il lavoro, il genio, lo sguardo di Massimo Troisi. Ci sono testimonianze inedite, si ripercorrono i momenti più significativi della sua vita. Buon Compleanno Massimo, venerdì prossimo, 17 febbraio, su Rai 3. Grazie, scusa Filippa, prego. Ora apriamo appunto la nostra pagina dedicata alla...